Edoardo De Angelis, cantautore, un nome veramente che mi dice una garanzia anche perché cantautore è scrittore per artisti veramente del calibro di De Gregori e non solo. Cosa vuol dire essere un cantautore e in questo caso incontri possibili con un'altra persona che davvero ha una personalità altrettanto diciamo marcata? Dunque, più semplice di quello che sembri, in realtà il cantautore io credo che abbia la funzione naturalmente di scrivere delle canzoni, ma non delle canzoni come tutte le canzoni, ma delle canzoni tratte, stratte, ispirate dalla realtà della vita, dell'uomo, la posizione dell'uomo nel mondo. Insomma, il cantatore dovrebbe avere la responsabilità di raccontarci la nostra vita, la nostra società, quello che succede di bene e di male e in qualche modo, come dire, risvegliare l'attenzione delle coscienze, tenere sempre alta una sensibilità su quello che ci accade intorno. Questo credo che sia il compito e la responsabilità di un cantautore, quindi scrivere canzoni, ma canzoni che in qualche modo ci facciano riflettere, ci diano un piccolo segnale di qualcosa che sta accadendo o che è accaduto. In questo contesto storico molto particolare, tra l'altro Renato Costabile, all'inizio di ogni evento richiama sempre le differenze, che poi sono differenze a livello etnico, a livello sessuale, che comunque possono unire e non devono spaventare. Sì, naturalmente, io sono assolutamente d'accordo con quello. Devo dire che purtroppo in questo periodo è stata fatta una grande propaganda, sono stati risvegliati nella gente, nelle persone dei sentimenti molto negativi, come la paura, come l'ignoranza. Io credo al contrario che sia importante il confronto, che dal confronto, adesso non voglio arrivare fino alla filosofia di Hegel, studiata al liceo e all'università, ma credo che dal confronto tra due realtà diverse venga fuori una terza cosa che è altra e che comunque è positiva e che si pone come un'alternativa o come una nuova tesi nei confronti del futuro. Grazie a tutti!